La crisi energetica da un lato, l'emergenza climatica dall'altro, nel mezzo, le amministrazioni comunali che sfidano l'effetto serra e le emissioni. Perché sta a noi riuscire a trasmettere ai cittadini un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di pensare per quello che riguarda il modo di scaldarsi, il modo di muoversi, il modo di consumare, per far sì che questo sistema emissivo in tutto il pianeta si riduca a zero. Ovviamente noi partiamo dalla nostra piccola comunità. Dopo l'approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile nel 2016, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, con delibera del Consiglio Comunale l'amministrazione ha aderito ad un nuovo progetto della Commissione Europea, il Patto dei Sindaci per il Clima e per l'Energia, che impegna i comuni a ridurre le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre il 40% entro il 2030. Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima è un pacchetto di azioni che l'amministrazione comunale intende mettere in atto per ottenere un risultato che è già contenuto in quello che è stato il Green City Accord e quindi la riduzione del 40% di emissioni di anidride carbonica in atmosfera da qui al 2030. Poi con la richiesta di entrare nelle 100 città pilota europee che si prefiggono invece di portare il livello emissivo a zero non nel 2050 ma nel 2030 ci siamo posti un obiettivo ancora più sfidante e quindi le iniziative e le regolamentazioni che nasceranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni hanno questo obiettivo, quello di riportare Arezzo a un livello emissivo più basso di altre città anche per dare un esempio e per essere in qualche maniera da potersi considerare come città a livello sperimentale. Il prezzo di metano è andato alle stelle e oggi il barile sta comunque seguendo questo trend ci spinge proprio ad accelerare su politiche volte ovviamente al contenimento dei consumi energetici ma anche alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e quindi noi in questo ambito in questo progetto chiaramente stiamo traguardando il sole, cioè nel senso non è una metafora ma il sole effettivamente è una forma di produzione energetica per tutti e quindi si tratta sostanzialmente di accelerare il processo tecnologico che si è in grado di trasformare questa energia in altra energia che poi sia spendibile e non è solo i pannelli fotovoltaici ma sono anche altri getti, l'idrogeno sostanzialmente.